Cosa serve per aprire partita IVA? Se chiedi al commercialista ti darà informazioni fiscali. Ma qui ti svelo i tre elementi indispensabili che ho scoperto attraverso la mia esperienza e quella dei professionisti che aiuto a mettersi in proprio. Ti servono prima di tutto obiettivi professionali chiari. Perché vuoi aprire partita IVA? Magari lo vuoi fare perché vuoi andare via da un posto come dipendente? Oppure perché vuoi creare qualcosa di nuovo nel mondo? La risposta a questo perché possono essere davvero tantissime. Ma averle chiare in mente ti aiuta ad orientarti nei momenti in cui non sai come proseguire ed è indispensabile prima di cominciare. Avviare un'attività in proprio e farla funzionare è molto più complesso di quello che si pensa nell'immaginario collettivo. Perciò se hai la sensazione che non ti sia chiarissimo che cosa ti spinge e cosa ti motiva il mio consiglio è quello di fermarti e rifletterci e magari farti aiutare da un professionista in questo. Perché la risposta non può essere solo voglio guadagnare di più, voglio fare qualcosa di mio ma deve essere più profonda e più articolata per poterti essere davvero d'aiuto e ad orientarti. I tuoi obiettivi infatti sono la tua bussola e ti aiuteranno nei momenti di sconforto a capire come andare avanti e verso che cosa puntare. Se stai pensando di metterti in proprio o sei già freelance iscriviti a questo canale per poter seguire i prossimi video su questi temi. Come seconda cosa ti serve lavorare sul tuo mindset imprenditoriale. Il mindset è l'insieme delle credenze verso se stessi e verso il proprio business, quindi la propria attività. Tu sei al centro della tua attività, quindi tu con le tue credenze, con le tue competenze, con una costante crescita verso se stesso, sei sicuramente importantissimo perché se non ci credi tu in quello che stai facendo sarà molto difficile trasmetterlo agli altri. Molto spesso si pensa che lavorare in proprio sia tutto libertà e tempo libero ma in realtà è un investimento costante verso ciò che si fa, verso il proprio business e verso il proprio brand. dentro e fuori l'attività lavorativa. Ma oltre a te stesso, l'altra cosa importantissima da tenere presente sono i tuoi clienti che con le loro aspettative e i loro bisogni ti indicheranno come muoverti nel tuo business. Quindi il tuo lavoro sarà quello di mettere assieme le credenze che hai verso te stesso e quello che può essere utile agli altri per unirle e creare il giusto asset di pensieri che ti aiutano ad andare avanti e a seguire i tuoi obiettivi che dicevano. Solo come ultimo punto ti serve un'analisi del mercato di riferimento nel quale vuoi posizionare la tua attività. Perché se non hai focalizzato e ragionato molto bene sui tuoi obiettivi professionali e su tuo mindset imprenditoriale, come abbiamo detto prima, il rischio è quello di fare un'analisi del mercato prematura. E cosa può succedere se la fai prima e non dopo, come invece ti suggerisco? Rischi di trovare dei competitor che sono più bravi di te e questo ti porta a demotivazione e sconforto perché il paragone con gli altri è dietro l'angolo. E se ci pensi è anche un po' normale che tu trovi delle persone che siano più brave di te. hanno cominciato da anni mentre tu stai cominciando adesso o stai facendo un rebrand della tua attività che è un po' come cominciare da zero. Quindi se fai l'analisi prima troverai tante persone e ti sembrerà che il mercato sia già pieno di altri che sono più bravi e più competenti. Il secondo scenario è invece quello nel quale hai scelto una strada professionale non basata su quello che tu vuoi davvero ma su quello che ti sembra che il mercato abbia da offrire. Se infatti come dicevamo prima non hai fatto un'attenta analisi di ciò che tu vuoi il rischio è di imbarcarti in qualcosa che non ti interessa e questo ti porterà a demotivazione e sconforto di fronte ai problemi. Nell'attività autonoma infatti ci saranno spesso dei problemi fanno parte del cosiddetto rischio imprenditoriale quindi ci saranno degli ostacoli che ti porteranno ad abbatterti e a chiederti chi me l'ha fatto fare. Per cui se scegli invece un percorso professionale, un progetto, gli obiettivi che ti interessano davvero e che partono da quello che tu sai fare e da quello che ti piace sarà molto più facile trovare energia per dire vado avanti perché ci credo, perché mi piace, perché fa parte di me. Cosa serve per aprire partita IVA e far funzionare il tuo business? Come punto 1 lavora sui tuoi obiettivi quindi focalizzati su quello che vuoi raggiungere a medio e lungo termine. punto 2 lavora sul tuo mindset imprenditoriale chi sei tu come professionista perché dovrebbero scegliere te perché sei la persona giusta per questo tipo di business. e come terzo e ultimo punto puoi passare all'analisi di fattibilità del mercato e della nicchia di riferimento. Ho creato un corso via mail gratuito che si chiama 5 passi che ti aiuta a lavorare proprio sui tuoi obiettivi professionali e su quello che vuoi raggiungere e quindi a darti motivazione. Trovi il link nei commenti o sul mio sito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.